Quali sono i motivi di questa conferenza stampa? Questa mattina si parla della nuova banca di UbiBanca, del gruppo bancario nato dalle ceneri di Carighietti. Diciamo che è un lavoro che mette un punto fermo sulla storia e su come si è arrivati a questa evoluzione. La Carighietti era l'ultima banca presente autonoma sul territorio abruzzese e quindi siamo stati così bravi da perdere anche quella. Grazie a una gestione non proprio appropriata, se vogliamo. Oltre ad altre questioni che troverete poi nel libro online che abbiamo fatto in questo lavoro, appunto per rimarcare che ci sono delle responsabilità che vanno trovate perché questa è una situazione che va a documento sia del territorio, sia di colleghe, sia della clientela. Dal 26 di febbraio Carighietti, oggi Banca Tatina, non esisterà più. Si chiuderanno dodici sportelli. Però questo lavoro è un lavoro più che altro per fare il punto fermo sulla storia, su quanto è accaduto perché è importante che ci sia memoria storica. Ci sono in questo libro che è in rete, l'abbiamo voluto costruire così proprio per dare la possibilità a tutti di farsi una idea di quanto è accaduto. documenti giornalistici, documenti sindacali, documenti, c'è il documento della Banca Italia, in cui si potranno trovare tutto ciò che è accaduto in questa banca. E si capisce in sette anni come è stato distrutto un grande patrimonio della nostra regione. Sindacati critici su quello che è stato in Carighietti fino ad oggi, si parla anche di futuro, siete preoccupati per le prospettive oppure il futuro è positivo per l'ex Carighietti? Il futuro è positivo, però ci saranno molti cambiamenti da affrontare perché arriva una nuova banca, una nuova mentalità e dobbiamo adeguarci a queste nuove situazioni tenendo presente anche il fatto che unendo delle banche insieme con delle sovrapposizioni sui territori ci saranno anche un po' problemi di esuberi. Quindi bisognerà affrontare queste situazioni, le stiamo già affrontando in Banca Marche, in Banca Etruria e le stiamo affrontando nella maniera migliore possibile, quindi nella maniera più morbida per quanto riguarda i lavoratori.